Mi è piaciuta la forma, la trassa che mi disse, l'outlet del centro storico, esatto, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, io sono un amante di voli, sono un amante di curiosità, quindi io dico perché no, questo è un amante di voli. Io spero, entro fino in un momento di riuscire ad aprire, e quindi aggiungiamo che cosa poi si può essere. Per noi è un grandissimo piacere e con entusiasmo avremo a Montevalli, appunto proprio di Piazza Varti, un nostro punto vendita dove saranno presenti tutti i nostri prodotti e anche tanti altri prodotti di azienda che diciamo fanno parte di una economia circolare che riguarda l'azienda di tutti i sottopodotti e di tutte le cose che vengono fatte alla stessa.